Ciao a tutti e bentornati sul mio canale Ma voi pensate di essere l'unici in tutto il mondo ad usare i gesti? Vi sbagliate di grosso Perché anche noi egiziani gesticoliamo un sacco mentre parliamo Anche se parliamo al telefono e l'altra persona non ci vede Ed ecco a voi quindi c'è i gesti che si usano più spesso in Egitto Ma sei pazzo? Senti, vai via! Ehi, scusa, posso chiederti qualcosa? Certo, te lo faccio con piacere Sono a tua disposizione Sono rimasto solo Che facciamo? Andiamo a mangiare? Casomai lo facciamo dopo Ma quanto sei invidioso No, quello è il gesto di Comunque il gesto è molto simile soltanto che è così Non ce la faccio più, voglio andare al bagno Meno male, grazie a Dio che è andata bene Oddio, ma quello lì non lo sopporto proprio Mi sta qui Eh, bravo, bravo Ma quando ritorniamo a casa facciamo i conti, eh? Ma meglio sono dimenticato Ma fa caldo però, eh? Bene, il video finisce qui E la prossima... Oh, ma dove sta andando? Aspetta, stai calmo, eh? Ecco qua, questo è l'ultimo gesto Però non ha lo stesso significato che avete capito voi Perché qua in Egitto si usa un modo diverso rispetto all'Italia Si usa per dire Aspetta, stai calmo, stai tranquillo Alla fine spero che il video vi sia piaciuto E vi ringrazio a mettere mi piace e a condividere E tu, scrivimi nei commenti se ho dimenticato qualche gesto Alla prossima, ciao ciao!